Si è conclusa oggi la settimana dedicata a business, innovazioni, ricerca e competitività delle imprese campane, organizzato da Camera di Commercio, Eurosportello, Enea, Università Federico II e Union Camere Campania. Centrati gli obiettivi, promuovere opportunità di business tra le aziende locale ed estere, favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese, diffondere informazioni sulla politica europea e in favore delle PMI, Aumentare la visibilità e la conoscenza del network europeo EEN Ieri appuntamento dedicato al ruolo delle donne nell'impresa, con l'apertura affidata al presidente di Eurosportello, Vincenzo Schiavo, e la presenza di numerose donne manager. Argomento, quella della presentanza femminile, particolarmente caro alla Camera di Commercio, come sottolinea il direttore di Eurosportello, Riccardo De Falco. È molto caro l'Eurosportello perché ogni anno tratta questo tema, mediante lo sviluppo di un'indagine che mette a confronto i dati dell'occupazione femminile e comunque dell'impresa e della donna, confrontando i dati della nostra regione con quelli dell'Italia e con quelli dei paesi europei. E quindi lo trattiamo spesso, diciamo, ci fa molto piacere. Quest'anno, appunto, l'Unione Europea, tra l'altro, ha lanciato anche un progetto specifico, BWIN, sul ruolo della donna per migliorare la condizione, diciamo, occupazionale delle donne in Europa.